Sapete che l'Algeria e l'Italia sono due paesi che hanno un forte legame, quel legame che risale a circa 2000 anni fa. Non a caso, ancora oggi in Algeria, ci sono alcune città che hanno nomi che richiamano città italiane. Qual è l'impressione avuta della città di Salerno? Salerno è una città molto bella ed ho voluto incontrare il sindaco per parlare di quelle che possono essere delle iniziative. Ci sarà forse un gemellaggio tra una città algerina e la città di Salerno, ma soprattutto intensificare i rapporti dal punto di vista turistico, considerando la bellezza del vostro territorio e i chilometri di costa che caratterizzano il nostro paese. E naturalmente provare ad intensificare i rapporti commerciali attraverso un potenziamento delle rotte marittime che collegano Salerno con l'Algeria.